ciao a tutti da fatina birichina e oggi siamo qua tutti insieme per presentarvi i miei piccoli eroi la prima uscita a soli 1,99 euro bravissimo e c'è in allegato il libretto di albert einstein divertenti libri illustrati per conoscere i personaggi che hanno cambiato il mondo con i loro valori prossima uscita gandhi tra le prossime uscite ci saranno gandhi rita levi montalcini marco polo brida leonardo da vinci mandela galileo galilei e molti altri allora adesso andiamo a scattare e a vedere ok abbiamo aperto il nostro libro albert einstein qui era da vecchietto e questa è la sua storia chi era con la sua famiglia questo sono io questa è questa è la lampadina non mi piace la minestra io giocare 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 la bussola a scuola ma che bello è bellissimo questo libro bellissimissimo ecco davvero interessante einstein questa è la sua storia bene poi insieme al libro c'era anche questo gioinello si qui fa vedere una collana di libri illustrati per scoprire i veri eroi della nostra storia anche i grandi eroi sono stati bambini ogni personaggio racconta la sua vita in prima persona attraverso gli aneddoti e gli episodi più significativi divertenti ed educativi il mondo di ognuno dei protagonisti è raffigurato attraverso simpatiche illustrazioni che accompagnano la lettura i momenti salienti della biografia sono ricordati nella cronologia alla fine di ogni volume una divertente pagina di giochi e quiz completa in libro ok quindi se vi è piaciuto correte in edicola a prendere la prima uscita e eventualmente non perdete anche la seconda di gandhi 3,90 euro si 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 un po' di più costa un po' di più la seconda uscita allora adesso che dire possiamo passare saluti? si si allora prima vi saluta Bob ciao ciao poi vi saluta Ninni e poi poi vi saluta Fatina Birichina e alla fine il nostro amico Polletto ciao a tutti a presto ciao ciao ciao